Ragazzi benvenuti in questa nuova rubrica in cucina con Rafferlo Paz e Carolina Ragazzi siamo nel periodo pasquale Perché pasquale? No, non viene pasquale che è in 40enne Ragazzi siamo nel periodo pasquale quindi si preparano pastiere, casatieri, pizzeri piene Allora ragazzi ci hanno passato il telefono perché? Perché noi adesso facciamo il casatillo fatto in casa Non mi do io Non mi do io Non mi do la patenda Ragazzi non è il classico casatillo napole Non lo so L'impasto già l'abbiamo fatto Non vi facciamo vedere la preparazione dell'impasto Perché mentre stiamo facendo l'impasto Poi ci è venuta la brillante idea di fare questo Allora ragazzi Per l'impasto abbiamo preso 375 grammi di acqua Farina 650 grammi Lievito di birra 10 grammi Sale fino 15 grammi Poi fino a quando ce lo volete mettere ce lo mettete Pepe nero quanto basta Strutto 25 grammi Oliva 25 grammi Poi una volta che voi lo fate vi regolate a toccio ragazzi Nel frattempo abbiamo preparato già i salumi Tutti fatti a cubetti Salumi sì Un po' di sugna che si deve lavorare con la farina Mentre si deve passare La salsa Le mani dentro Non so ne vedo come si fa ma ci proviamo Ho messo un cappello per non far cadere i capelli Ti capito poi Ti capito? Ti capito? Ti capito? Ti capito? Ti capito? Adesso abbiamo messo a fare le uova sote che il nostro cirrusso spelleggerà Eccolo lui è molto entrato nell'accademia Spellecchi così ma se ne va Che vuoi detto a loro Dai spellecciare le uova Nel frattempo ragazzi noi prepariamo Siamo pronti? Sì Allora ragazzi prendere la farina Un po' un po' un po' un po' un po' un Preparare un po' sul banco Tendiamo un po' un po' di farina così Te lavate in mano? Non è lì per favore capito? Te lavate in mano? Come? Ragazzi non mettere tanta farina Altrimenti l'impasto si inserisce pure da te Eccolo Non ho fatto niente Eccolo tutto il terreno Tu taglio Faccio andare Ti faccio andare Ti faccio andare Ti faccio andare? Sì Ti faccio andare il tafis Ok Ok ragazzi Tutto bene Vediamo l'impasto Lo capottiamo Vi esce a capito? Solo me L'abbiamo fatto riposare Spingi 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 L'abbiamo fatto riposare lo Spingi L'abbiamo fatto bene Ah ecco qua ragazzi L'impasto Vediamo un po' di farina Vabbè se l'ha fanato un po' Sì E fallo quello l'angolo Venga vai Particolo Sì 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 Allora dobbiamo allargare Praticamente Dai Gì Gì Oh non lo fermo E che le dai a una cugata? Piggi la da pari Perché se ma si C'è un bucchino da lei Mi una pari Però In modo che si fanno Sopra Zogna vanno a dire Sopra Sopra così Ma che ne sa' un po' Che schifo Come? Eh Sanno pei male Questa Non lo fai No Non lo fai Stato Zogna fai di zogna Uoah Uoah Eh Fede Ma che si sa da qua Oh Non lo fai No 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 Ma io Mi hai più bello Ma io Mi hai più bello No Ma oggi non si sa da Facebook Si sa da Facebook Non si sa da Facebook Fai una Ma ti fai di per favore E' vero Poi Ok 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 Poi Poi Teniamo il mattarello Scusate Si sa da mattarello Come si è a mattare? Non lo mattare No Uoah Non lo fai si sta Ma qui Ma qui non siamo tanto pranzo Bravo 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 Raffaele Bravo Mio Mario Ma io ciò che mi dà bozza a bozza Ehm Ehm Benissimo Ecco Non lo fai Non lo fai Ok 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 modelo Ok Ok Ehm Ah Il nostro presidente Of Cont answers Ehm il lupo si smerciate questo facciamo il lupo ve lo con me faccio e usci bruttissimo gli ingredienti dobbiamo prendere spalmo bisogna spalmare queste cose qua un po' di pepe oppure il pepe sopra quando il lupo ne esce il lupo ci spagniamo un po' ecco qua ci spagniamo come si dice la roba vabbè però hai scudato una cosa non hai scudato vabbè aspetto di minuto vabbè aspetto di minuto vabbè aspetto di minuto allora praticamente possiamo anche allargare bisogna allargare bisogna allargare le cose che abbiamo messo sopra in modo tale da no ragazzi c'è prosciutto cotto c'è salame due tipi di formaggi si ecco qua pancetta pancetta pancina un po' di calzini in omaggio per i primi che chiameranno arrivate a questo punto ah ma aspetta questo qua c'è un lupo perché se non potete fare anche un po' ecco qua ok ragazzi prego non lo so dove prego 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 l'olio in frattempo il vostro cuoco, prendete un po' di questo e mangiate in frattempo adesso viene un momento bruciato che vuol dire? è sotto la mia custodia bisogna lavoggiare si sta lavoggiando lavoggi su con noi lavoggi un po' di fatici che vuole? che vuole lavoggi è lavoggiosa? lavoggi è fumato questa è una canna questa è una canna questa è una canna questa è un saccicciotto amici e non c'entrà la cittadina? c'entrà il bambino non lo ha visto al negozio c'è una roba a fare un culo c'è una roba a fare un culo questo è un po' di questo va bene bisogna aggiungere? si ragazzi poi va bene mette le due dita ma non metti il culo ma non metti il culo ma non metti il culo ma non non metti il culo non metti il culo non metti il culo non prendi il culo ma è la macchina non mette i culo vi dite quanto è bello facciamo prevedere è un po' più così non metto il culo non metto il culo quando potrà crescerlo è cresciuto in modo uniforme guardate qua ragazzi guardate qua mi ci dà mi dà già c'è la forma no, lui aspetta adesso ragazzi si lascia riposare per un'ora si mette un bel panno un bel panno sopra vedete? si mettiamo il panno sopra andiamo ad alzare e no ragazzi non c'è più ragazzi non c'è più come su queste diciamo un po' di pratica lo facciamo riposare per un'ora e dopo vi facciamo vedere il continuo ragazzi siamo tornati ci siamo accorti dalle riprese precedenti la Carolina è un mezzacapo ma non fa niente non fa niente ragazzi continuiamo allora abbiamo lasciato riposare il nostro casatiello qui nel ruoto Carolina sta sbattendo un uomo perché? perché dobbiamo andarlo a spalmare sul casatiello prima che lo inforniamo solo che abbiamo il problema no 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 si spagna non abbiamo il pennello per cui si manca un po' di capito c'è non c'è non c'è non c'è secondo me un po' così ah no non c'è non c'è non c'è non c'è diciamoci l'uomo guarda guarda si spagna così bene non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è questo qua vedete facciamo ah si fanno le striscette sopra vedete un giuato come mai metterla a po' faccio un giuato bagnetto con l'uomo all'uomo il terrore l'uomo il forno ragazzi mettere il forno togliere la roccia sta mettendo la roccia toglietela con quanto tempo allora lo facciamo usare 35 minuti qua a metà forno e poi lo facciamo usare altri 25 minuti un quarto d'ora più sotto eccoci qua è tutto buono il casatiello si è fatto veramente già tu l'ho andato in la ragazzi è cresciuto un altro ma in forno è un bello biondo un attimo ma dov'è qua io non ho credo più sì io ho sempre bravo altana uuuuuh quant'è beee ma guarda io la c'è male non so se è petita non vuoi la cazza su calda la cazza ciò vicino vieni qua non ciò vicino vieni più vicino vieni 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 allora ci sta anche chi lo fa il giorno prima per il giorno dopo quindi come ti ti mangiare quando vuoi tu tanto questo si conserva 3, 4, 5 giorni ah di tutto sì tu praticamente hai lavorato con la sugna proprio per farlo più durale durale bravo ragazzi vicino al casatiello qui ci sono tanti salumi del pepe è una cosa rustica io vi consiglio un po' di vino rosso ne abbiamo preso un monte pulciano da bruzzo proprio perché usavo il mila base di frughessi poi tanto hai capito che stai frughessi ragazzi questa è la ricetta del casatiello se volete altre ricette di Rafferlo Pazzo e Carolina spolliciate commentate seguiteci su Instagram Carmine Migliaccio ufficiale Rafferlo Pazzo aspetta poi a parte questo Rafferlo Pazzo ufficiale Luca Arena ufficiale seduta la prima ovviamente mandateci la foto del vostro casatiello su Instagram e taggateci ovviamente taggateci solo se avete eseguito la nostra procedura perché di casa di nuovo cosa non ci ne faccio proprio ragazzi ti aspettiamo su Instagram commentate condividete un bacio alla prossima con alla prossima comunque io lo chiuso facciamo pronti